il ventriloquo ora vi presento la stella dello spettacolo per voi Matti come siete? come siete? come me? scusa? dimmi tu chi sei? io ma come chi sono? il ventriloquo chi? ventriloquo in inglese si dice de ventriloquies in francese le ventriloquo in italiano ti metti il culo scusa? che c'è? chi sono questi? loro? eh come chi sono? il pubblico maestro music please spero che io voglio così non ritorni anche io oh di dove sei? italo americano wow italo americano ci ci mamma americana ci ci e papà è italiano americano no no come no l'amico è italiano l'amico è italiano papà? cornuto quindi hai girato il mondo e parli tante lingue si e qual è? la lingua che preferisci? quella di tua sorella lingua Ah, francese! Oh, parli tu francese? Oh, yes! No, eh, ma ne... Do you speak English? Do you care? Tu parli inglese? Sì! Oh, allora parliamo di numeri. In inglese uno si dice one... One... E due? One... One... E due si dice... Uno... Due... La voce... E per te parlo la voce davvero maschera. Sei pronto? Sicuro? Davvero? E solo stasera? Ah no? Conosci altre lingue? In giapponese. Parli giapponese? Sì, sì. E allora saluta il pubblico dicendo... Ah, buonasera in giapponese. Buonasera in giapponese. No, devi dire buonasera. Buonasera! In giapponese. Toyota! Toyota! E se dicessi buongiorno? E se dicessi buongiorno? Suzuki! Buonanotte! Kamasuki! Mia sorella! Mia sorella! Kamasutra! Bellissimo, eh? Allora, guardando il pubblico... Sei pronto? Uuuuh! Sicuro? Uuuuh! Ti piace la tua voce? E se dicessi buongiorno! Maestro, la musica... Questa? Ti porto fuori. Veramente? Ma niente. Ti ricordo che se non ci fossi io, tu non parleresti. Ti ricordo che se non ci fossi io, tu non mangeresti. E allora, gran finale! Fantastico ancora! L'ultimo è tuo! Grazie! Grazie!